cos'è un medico un medico è una persona che fa una scelta di vita curare ho scelto di fare medicina un po per caso nel senso non era una cosa che pensavo da sempre da quando ero piccola come capita a moltissime altre persone ho deciso di fare il medico per una profonda passione fin da piccolo per le materie scientifiche ho scelto di fare il medico perché verso i 18 anni ho capito che volevo fare qualcosa per gli altri un medico è una persona che ha scelto di prevenire diagnosticare trattare le malattie chi ha scelto soprattutto di portare sugli evo è stato da piccola che ho sentito la chiamata per fare il medico sentivo la voglia il bisogno di rendermi utile un medico si occupa della salute e come dice il giuramento di pocrates opera in scienza e coscienza con diligenza perizia ed equità ho deciso di fare il medico perché ho sempre pensato di voler fare qualcosa che fosse utile per qualcuno quale mestiere migliore per appagare questa necessità ho deciso di fare il medico da bambina eccomi signor d'agostino mio nonno era medico condotto e amavo l'ammirazione dei pazienti nei confronti di mio nonno ho scelto di fare il medico un po per caso perché al liceo in realtà volevo fare la ricercatrice avevo 5 6 anni e mia nonna si è ammalata di tumore al seno io ingenuamente le dissi nonna ma io da grande faccio il medico sarò un medico e sicuro io ma per diventare medico la strada è lunga dopo la laurea bisogna specializzarsi decidere che tipo di medico si vorrà essere ho scelto medicina d'urgenza perché probabilmente è la branca della medicina che concilia al meglio i due principali lati della mia personalità quello un po più nerd e quello un po più ribelle più dinamico più adrenalinico che è quello che poi vivo tutti i giorni in pronto soccorso mi sono sempre sentita vocata all'idea del medico dei piccoli proprio dei bimbi ho scelto oncologia perché mi piace tanto l'idea di poter unire la ricerca alla clinica facendo un'esperienza all'estero mi hanno casualmente mandato nel reparto di oculistica e quindi ho iniziato a frequentarla e da lì mi sono appassionata ho scelto di fare ginecologia e prevalentemente ostetrice in realtà perché l'ostetrice ti permette di fare la medicina anche seguendo qualcosa che non sia necessariamente una mattina con il tirocinio il mondo della sala operatoria mi ha subito affascinato quindi queste queste figure che mi hanno subito coinvolto nell'attività di sala operatoria diciamo sono poi diventati i miei maestri sono tuttora i miei maestri la senologia l'ho incontrata dopo tre anni di specializzazione in chirurgia generale forse proprio perché ho scoperto che potevo fare sia il medico nel senso clinico del termine che il chirurgo ho sentito tutti i tasselli mettersi nell'ordine giusto e sono stata sollevata io chiedevo a mia madre ma chi è il medico dei bimbi più piccoli che esistono e mia madre mi disse il ginecologo e io pensavo di voler fare il ginecologo perché a me piacciono i bimbi piccoli vi racconteremo le storie di 20 ragazzi che hanno un sogno dedicare la loro vita alla medicina e ai pazienti gioie, dolori, sacrifici tra i reparti e le corsie del Policlinico Gemelli dove ogni giorno l'unico vero obiettivo è dare valore alla vita un oncologa, una pediatra, una senologa, un medico di pronto soccorso, un chirurgo, un anestesista lunghi anni da specializzanti in cui si è ancora allievi e quindi poi ho capito che era il pediatra